E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti e condividete questo video con tutti i tifosi veneti e non che conoscete e seguite Surfersport su Instagram. Allora, quest'oggi mi sono svegliato col fomento perché il clima nazionale, qualificazioni mondiali... Vi ricorderete che tempo fa, assieme al Bepi, e vi lascio il link in descrizione, abbiamo fatto un video su una possibile nazionale Veneta ad Euro 2000, cioè come sarebbe stata, ed era uno squadrone. Ebbene, ho voluto fare questo pindarismo di attualizzare la situazione e costruire quella che sarebbe la nazionale Veneta che si giocherebbe ad oggi le qualificazioni al mondiale in Qatar. Ecco, io ve la vado a leggere, voi nei commenti ditemi che cosa ne pensate, che cosa potrebbe fare, dove potrebbe arrivare, attenzione, attenzione, ma andiamo con ordine, con le scelte. Allora, signori, il modulo. Qui ho scelto il 3421, che è il mio modulo preferito, e vi spiegherò il perché domani. Domani farò uscire un video in cui finalmente vi dirò qual è la mia posizione tra giochismo, non giochismo, la mia filosofia calcistica, qual è la mia filosofia del fare calcio, quali sono gli allenatori miei preferiti, il mio pensiero calcistico preferito e in generale. Però, dicevo, andrei di 3421 e attingerei profondamente, signori, al discorso delle naturalizzazioni, perché voi sapete, il Veneto è stata una regione di emigrazione, specialmente verso il Sud America, ci sono tantissimi giocatori della storia, argentini, brasiliani, anche uruguagi, che hanno origini venete, e molti che oggi si impongono ad alto livello, hanno quel tipo di origine. Quindi attingerei profondamente alle naturalizzazioni, alla cittadinanza, diciamo, in base agli avi, e vedrete anche che è una nazionale, per certi versi, multietnica, no? Perché anche diversi giocatori hanno delle origini molto, molto diverse tra loro, e viene fuori veramente una nazionale, secondo me, interessante. Vi dicevo, 3421. Vi leggo la formazione titolare, poi vi vado anche a dire qualche ballottaggio, qualche giocatore che comunque sarebbe in rosa e potrebbe giocarsi il posto con i titolari. 3421 con in porta Marchesin, che è un portiere argentino, ma di chiare, chiarissime origini venete, lo chiamano Marchesin, però, diciamo, il cognome alla Veneta è Marchesin, capito? Marchesin, portiere del porto, gli è stato soffiato il posto, se non sbaglio, da titolare in questa stagione, però, ovviamente, per la nostra nazionale ce lo vado ad inserire, lo rendiamo, diciamo, portiere della nazionale. Marcesini in porta, 3-4 di 1 con Marcesini in porta. Difesa, signori, non male. Difesa a 3 con Toloi, che gioca a 3 all'Atalanta, naturalizzato per la nazionale italiana, perché ha origini venete. Toloi, Cumbulla, che è di Peschiera del Garda, e Lovato. Difesa a 3, Toloi, Cumbulla, Lovato, insomma, non è male, eh? Non è male come difesa Toloi, Cumbulla, Lovato. Un altro giocatore che potresti inserire è Zortea, ma è più terzino, anche Zortea è Veneto. Anche Varnier del Pisa, di scuola Atalanta, è un giocatore che potresti inserire qui. E anche Pedro Geromel. Pedro Geromel, giocatore brasiliano, ma anche lui come Marchesin, di chiare origini nostrane. Ok? Però attenzione, vado al centrocampo a 4. Come esterno destro, signori, un pezzo da 90. Manuel Lazzari, di Bassano del Grappa. Manuel Lazzari, di Bassano del Grappa, sulla destra, come cursore a tutta fascia. Centrocampo, oso il futurismo, signori. E qui piazzo Geromel. Geromel, che è un difensore centrale, ma a mio avviso, nella mia nazionale, lo piazzerei anche come mediano di interdizione e devastazione a centrocampo, assieme a chi? A Giorginio. A Giorginio. Che come Toloi, gioca nella nazionale italiana, facendo riferimento a quelle che sono le sue origini della provincia di Vicenza, diciamo, i suoi avi. E a sinistra, signori, attenzione al futurismo, a sinistra Udo G. Udo G. Udo G è Veneto, gioca nell'Under 21 italiana, è originario di Verona, e quindi Udo G come cursore a tutta fascia. Attenzione, abbiamo due fasce Udo G e Lazzari, che mica si buttano via. Mica si buttano via. Ma poi qui veniamo al fomento delle mezze punte. Il fomento delle mezze punte. Altro giocatore brasiliano naturalizzato, ex Chievo, ex Chelsea, Lucas Piazon. Lucas Piazon ed Emanuele Vignato. Lucas Piazon ed Emanuele Vignato. Fomento, eh? Mica si buttano via. Mica si buttano via. Punta, io ci metto, io ci piazzo un esiziale Doge Boccalon. Boccalon, signori. Boccalon, è il dose. Boccalon. Boccalon, prima punta, che può essere anche il fomento di vederlo magari al Venezia, che non gioca e poi si rilancia magari nelle qualificazioni. Boccalon, prima punta, ci sta assolutamente. Anche qui per il discorso del centrocampo e della punta, potevano esserci dei giocatori, anzi ci sono sicuramente dei giocatori interessanti, anche da piazzare nelle seconde linee. Penso a Valotti, che è un giocatore della SPAL, che ha fatto bene anche in Serie A, è molto interessante. In attacco penso a Vido, che è un attaccante dell'Atalanta, di scuola Atalanta, che in Serie B sta facendo anche bene da diversi anni. Sulle fasce Casale, Casale del Verona, che si sta ampiamente imponendo come uno anche dei giocatori più interessanti della Serie A. Però insomma, la formazione che io andrei ad indicare come quella che si giocherebbe le qualificazioni al Mondiale, ed eventualmente magari qualora riuscisse, riuscirebbe a qualificarsi, chissà magari anche qualcos'altro. 3-4-2-1, Marcesin, Toloi, Cumbulla, Lovato. A centrocampo, Lazzari, Geromel, Giorginio, Udo G. Ok? Mezzepunte, Piazzon, Vignato. E in attacco, Boccalon, signori. Allenatori. Eh, qui! Qui ci possono essere diverse scelte, ci possono essere. Sapete che a volte capita, capitava anche con l'Olanda, se non sbaglio, con Advocat o con già il buon Van Gaal. Capitava che gli allenatori allenassero una squadra di club e poi contemporaneamente magari anche la nazionale. Ecco, io mi affiderei ad un fomento di questo tipo. Oppure si potrebbe optare una scelta proprio in stile calciomercatistica che ci andiamo a prendere un allenatore che non sarebbe mica male. Beh, il primo che mi viene in mente con il 3-4-2-1, signori, è Gotti. Gotti di Adria. Luca Gotti. Ma vi immaginate un Gotti allenatore ai mondiali? Sarebbe una passerella. Una passerella anche di fomento, di stile, di eleganza. Signori, vi immaginate questa squadra in mano a Luca Gotti? Ma che fomento sarebbe Luca Gotti? Magari viene fuori, non lo so, un Inghilterra-Veneto con Southgate contro Gotti. Vi immaginate che pindarismo delle eleganze che avrebbe fuori. Luca Gotti, che credo sarebbe la scelta naturale, diciamo la proiezione la più naturale, la più gasante, la più nostra. Altrimenti si può andare con un altro pindarismo, con un altro pindarismo, Foda, Franco Foda dell'Austria. Sapete che Franco Foda ha il padre, se non sbaglio, di origine veneziana. Potresti fare un'operazione calciomercatistica con delle connection, oserei dire, di rimembranza asburgica. Scipi, Franco Foda, che tra l'altro ha fatto anche bene con l'Austria e i mondiali. L'Austria è una bella squadra, a me piace l'Austria. Già dagli europei mi piaceva. Puoi andare a prendere il buon Franco Foda e piazzarlo come allenatore di questa neonazionale pindarica, diciamo, Franco Foda. Altrimenti potresti provare anche un'opzione giochista. Non se parla del giochismo. Non se parla del giochismo. Puoi andare a piazzare magari un Paolone Zanetti e fare un 4-3-3, che così ti metti il vestito delle grandi occasioni della squadra che vuole portare del giochismo. Magari sempre con Marcesini in porta e metti Lazzari e Udo G come terzini bassi. Fai una difesa a due con Cumbulla-Lovato, Toloi-Lovato, Toloi-Geromel. Vedi tu, insomma, fai un centrocampo a tre con Giorginio-Valotti-Geromel e ci scegli tu come giostrartela. E davanti fai le due ali, Piazzon-Vignato e centroavanti puoi mettere Vido o Boccalone con un bel Paolone Zanetti, 4-3-3. Però devo dire che il 3-4-2-1 mi fomenta maggiormente, specie qualora dovesse essere sospinto magari sospinto da delgottismo, sospinto da anche Franco Foda, insomma. Quindi questa è la nazionale che vi vado a dire. Ve la ripeto. 3-4-2-1, Marcesini, Toloi, Cumbulla-Lovato. Poi, Lazzari, Geromel, Giorginio, Udo-G, Piazzon-Vignato-Boccalone. Ditemi come vi sembra, ok? Ditemi dove potrebbe arrivare soprattutto, quali sarebbero le potenzialità di questa squadra, se vi fomenta, se vi piace. Un caro saluto e a domani.